Caccia al bollino è ancora in atto, quindi ricordatevi gli sconti in funzione del colore. Caccia al bollino! E' aperta la caccia. Andiamo a trovare il bollino azzurro. E' aperta la caccia. Eccolo qua, il bollino azzurro. Sconto del 20%. Sono a caccia del bollino rosso. Trovate il bollino rosso. Signora, è aperta la caccia, la caccia al bollino. Lei quanti bollini ha trovato? Nessuno. Nessuno finora? No. Però se lei va a caccia, può trovare i bollini sia giallo che rosso che blu e quindi può avere degli sconti. Quindi è andata a caccia anche lei? Sì. Va bene, grazie. Lo sa che è aperta la caccia? Che cosa? Stiamo cercando i bollini azzurro, giallo, rosso e verde. E in funzione del colore cambia lo sconto. Ma è già attivo questa cosa? La caccia è aperta. È aperta la caccia. Lei è a caccia come me? No, assolutamente. Non caccio. Io sono a caccia del bollino giallo. Perché il bollino con la percentuale di sconto più alta è il 50% di sconto. Buona caccia. Grazie. Anche a lei. Sono a caccia del bollino giallo. Quello con lo sconto del 50%. Eccolo qui. Ci vediamo subito dopo il fatto. Mettetevi nei miei panni.